Dopo la pausa dovuta all'emergenza sanitaria e ripreso in tribunale ad Alessandria il processo a carico dei 49 attivisti Notav che nell'aprile 2014 si resero protagonisti di alcune proteste contro il quartiere del Terzo Valico nei territori di Pozzolo, Formigaro e Arquata Scrivia. In aula sono stati ascoltati alcuni carabinieri che in quei pomeriggi di lotta rimasero feriti durante gli scontri al cantiere di Pozzolo e Arquata Scrivia. In particolare è stato sentito il racconto di Giovanni Ariu che insieme ad altri 30 colleghi stava presidiando l'area. A un certo punto la folla degli attivisti si è avvicinata a noi e ha iniziato a spingere, ha raccontato, e a quel punto abbiamo ricevuto l'ordine di lanciare i lacrimogeni, ma come risposta siamo stati assaliti dal lancio di sassi e bottiglie di acqua. In quel frangente rimasero feriti con sette giorni di prognosi il maresciallo Pierluigi Capra e l'appuntato Salvatore Romano che nel processo si sono costituiti insieme al Kociv parte civile. Più tardi poi i tafferugli erano continuati a quel punto, erano ripresi anche i lanci di oggetti. Io sono scivolato, ha riferito il maresciallo Capra, e da terra ho assistito al lancio di lacrimogeni. Poco prima gli attivisti avevano divelto 300 metri di rete di protezione arancione posta dal Kociv per delimitare l'area di intervento dei lavori del terzo valico. I 49 imputati che risiedono tra le province di Alessandria e Genova e che nel 2019 erano stati rinviati a giudizio, devono tutti rispondere in concorso di resistenza pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni personali. Diverse nel frattempo le prescrizioni nei confronti di chi aveva protestato con il volto coperto ed era finito nel registro degli indagati.